www.feyyaz.tv Guarda un po' chi c'è. Come ti potremmo chiamare? Oh, ho trovato! Tuono! Ecco la tua nuova famiglia. Un gattino sta per scoprire... Sei in un castello magico! ...che la magia è una cosa seria. Ma... voi non capite. Mi sono perso. Non è un nostro problema. Tuono! Vi invita a unirvi a lui... ...per vivere la più grande avventura delle sue nove vite. Il castello magico. Prossimamente al cinema. Prossimamente al cinema. Magico. 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 Grazie a tutti